In questa biennale dello stretto l'arte e architettura dialogano in maniera molto stretta assieme alla fotografia e altre arti competenze. Qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista è un confronto veramente originale e inedito qui in Calabria e qui a Reggio. Ovviamente sto parlando della biennale dello stretto ed è una situazione inedita, è un numero zero per la Calabria ed è molto interessante perché pregna di significati forti, di contenuti veramente ampi e questo parallelismo fra l'arte e l'architettura, proprio anche la collocazione negli spazi dà veramente la percezione di un confronto che non è uno scontro ma che è un dialogo, che è qualcosa che va oltre la fisicità, cioè qualcosa nell'aria che è un'energia che si avverte già dal primo giorno ma anche nelle persone che arrivano e che vedono per loro. Si sente questa energia delle persone. Si sente perché sono tutti i giovani che vengono a visitare la biennale ed è bellissimo che ci sia anche questo pubblico così giovane, è bellissimo davvero. Senti, questo tema appunto di arte, architettura e altre arti che si incontrano, l'arte di solito non è facilissima da comprendere, soprattutto l'arte contemporanea, anche tale qualche architettura non è facile, va spiegata come diciamo sempre, va raccontata, occasioni come queste servono anche per quello, no? Sì, devo dire che tutte le persone che hanno già visitato la biennale dello stretto hanno negli occhi una luce che fa capire che il significato, il contenuto è arrivato al cuore, è arrivato all'anima, è arrivato al cervello e questo è importante. significa apertura e secondo me la gente qui è assetata, non è vero che non è comprensibile che va spiegata, probabilmente va proposta perché non c'è uno spazio per l'arte contemporanea, questa è veramente, come dicevo prima, una novità. Poi ovviamente ci sono stati sempre eventi di arte contemporanea, ma di questa portata e con questo forte significato legato, uso una parola, abuso di una parola al territorio, abuso veramente, al territorio, fanno di questo luogo un luogo altro, un luogo che in potenza si è già espresso, ma deve essere poi definito a un livello politico, a un livello amministrativo, e anche di continuità, se è una biennale non può essere un numero zero che non ha una sua prosecuzione, che non ha un suo futuro. È stato dichiarato che è un laboratorio permanente internazionale, quindi avrà delle continue ricadute. Sì, gli artisti hanno bisogno di questo, hanno bisogno anche di spazi entro cui operare, entro cui confrontarsi, e farlo nella propria terra è, secondo me, una, come dire, non è una prerogativa, perché poi ovviamente questo accade sempre anche in altri luoghi, c'è sempre una valorizzazione dell'artista dentro il luogo, ed è anche giusto che l'artista viaggi per confrontarsi con altre realtà e che possa accrescere il suo già nutrito bagaglio, però poi poter operare a dieci chilometri da casa, in un posto così forte, ed è un forte, e scardinare quello che è il concetto del forte, qui è un visticcio di parole che veramente rafforza e qui ritorniamo proprio al gioco. Sei all'iterativa, mi vede. Sì, assolutamente. Diventa una sfida, una grande sfida, e lo hanno dimostrato gli artisti. Io sono, come dire, il portavoce in questo caso, perché rappresento anche Tecne Contemporary Art, e ci sono all'interno degli artisti che hanno progetti, hanno portato progetti che durano da tre anni, insomma una ricerca che dura da tre anni, o progetti che sono ludici, proprio adatti anche a essere, nutrimento per le nuove generazioni, perché sono di facile lettura, non è vero che sono difficili, ma anche l'aspetto tecnologico e scientifico, l'arte che incontra la scienza, che la sfida, e che la fa diventare poesia, e tante altre belle cose, che però ovviamente l'acqua come elemento, ma anche l'acqua verticale, si è detto in questi giorni l'acqua come luogo della politica, oltre gli aspetti che sono stati già sviscerati sull'acqua. A proposito di questo, per chiudere, un sommario di tre righe, tre, sul tuo intervento che hai fatto oggi sul palco. Cosa hai detto? Diciamo che all'apertura della mostra ho esposto le opere degli artisti, l'ho fatto davanti all'amministrazione tutta, oggi non mancava nessuno. Questa sensibilità, queste presenze ci confortano, perché dare voce agli artisti e ascoltarli non è una cosa che capita tutti i giorni a queste latitudini. Anche perché gli artisti esprimono concetti alti, concetti politici, e danno anche a volte, non danno risposte ma pongono molte domande, ma domande specifiche, domande mirate, domande che aspettano delle risposte anche da chi stamattina era presente. Noi abbiamo fatto domande. Grazie. A te, grazie.